Prosegue la pulizia e la sanificazione delle strade contro il coronavirus in tutto il territorio di Castellabate. È partita infatti ieri mercoledì 21 ottobre e continuerà oggi 22 e domani 23 ottobre il servizio di sanificazione straordinaria delle arterie predisposto dal comune di Castellabate per il contenimento del coronavirus. L'intervento di igienizzazione che verrà effettuato di notte a partire dalle ore 23 riguarderà strade, vie e piazze di tutte le frazioni del comune. Castellabate attualmente non ha alcun caso di coronavirus sul suo territorio, ma per tenere alto il livello di sicurezza bisogna continuare le buone pratiche, tiene a precisare l'assessore alla protezione civile Salvatore Marinelli. In concomitanza con la preoccupante crescita della curva epidemiologica del contagio da Covid-19 in Campania, abbiamo voluto intensificare le operazioni di pulizia con tre interventi straordinari. Desidero esprimere a nome dell'amministrazione comunale un ringraziamento al gruppo Lucano della protezione civile, dichiara il sindaco facente funzioni Luisa Maiuri. Stasera le attività preseguiranno a San Marco e domani sera verranno coinvolte tutte le altre frazioni. Voglio rivolgere un grande apprezzamento ai volontari locali, poiché si tratta di una piccola parte del lavoro straordinario di solidarietà ed unità di intenti svolto con grande dedizione in questo periodo emergenziale.